Eccomi qua, nel frattempo lui è andato a riposo, quindi il tablet è a luminosità bassissima, nel momento in cui io entro nella stanza, mi sveglio, mi sveglio, mi sveglio, mi sveglio. Bentornato o benvenuto sul canale, oggi parliamo del tablet da muro, immagino che anche voi come me, amanti della domotica che avete installato un assistant a casa, abbiate la necessità di gestire del tutto, oltre che dal telefonino, anche da un tablet, in modo tale che i familiari possano agire dal tablet stesso per accender luci, spegnere, aprire cancello e fare tutte le cose che occorrono, insomma. Il tablet a muro diventa un oggetto indispensabile, quindi, della nostra domotica. Il problema principale che si pone, ovviamente, è quello di come faccio a spegnerlo ogni volta a riaccenderlo, oppure abbasso la luminosità ogni volta e la alzo, la moglie magari strilla perché dice, ma quale affare lì, come si accende, come si spegne, come si fa? In qualche modo bisogna trovare una soluzione. Ho visto che in giro ci sono delle ottime soluzioni che trasformano il nostro tablet anche proprio in un vero e proprio chiosco, soluzioni molto complesse, molto avanzate. Qualcun altro addirittura ha acquistato dei mini monitor Android da mettere nella scatola di derivazione, nella scatola elettrica per controllare le cose principali. Insomma, ognuno trova la propria soluzione. Allora, personalmente io credo che Home Assistant deve essere lasciato il più leggero possibile e utilizzare le funzioni che ha già all'interno Home Assistant perché gli sviluppatori ci danno tante possibilità. Spesso però magari non andiamo a cercarle e non le conosciamo. Io quindi ho pensato di usare una soluzione senza addons esterni ma semplicemente usando i comandi di Home Assistant perché nel caso dei tablet Android, perché di questo parliamo in questo video, è possibile inviare dei comandi così come li inviamo al telefono e vi invito magari a vedere quello sulle notifiche che ho fatto tempo fa. Ovviamente anche il tablet è un Android e quindi anche esso può ricevere queste notifiche. Notifiche che non sono solo notifiche, possono essere dei veri e propri comandi per azionare il nostro tablet. Quindi fondamentalmente il principio è io appiccico il mio bel tablet a muro e voglio che lui si accenda quando entro nella stanza o quando interagisco con esso e si spenga dopo qualche minuto che non sono più nella stanza o che non devo utilizzarlo. Nel video precedente avevo parlato dei sensori dell'IKEA. Va bene qualunque sensore, che sia della cara o di Trink & Svai, va bene uguale. L'importante è avere un sensore di presenza, di movimento, da piazzare nel soggiorno e che possa interagire con il nostro sistema domotico per accendere il tablet quando noi entriamo nella stanza e spegnersi dopo un po'. Quali tablet utilizzare o quali tablet acquistare? Dipende molto dalle vostre scelte, dal vostro gusto. Io non posso aver visto centinaia di tablet per cui vi posso solo dire la mia personale esperienza su due tablet che ho in mio possesso. uno è un tablet Lenovo questo è un tablet di a 10 pollici che è un compromesso fra l'esciofeche e i tablet da 4, 5, 600 euro. Perché? Perché l'esciofeche, le ho già provate, non vanno bene. In modo particolare, senza citare marchi, però su un tablet che costava meno di 90 euro praticamente quando andavo nella sezione delle videocamere il tablet diventava nero perché poi ho scoperto che non era neanche full HD il tablet e non riusciva a, come dire, ridisegnare l'immagine in una interpolazione, insomma, in una risoluzione minore. Per cui ho dato via, restituito, tutti e due i modelli che ho provato economici e ho trovato un modello che sta sotto le 200 euro e che va veramente molto bene. Un 10 pollici tablet che ci posso fare qualunque altra cosa. però è logico che noi mettendolo al muro non sfrutteremo tutte le caratteristiche del tablet. Però, volendo, ci posso vedere i film su Netflix, posso fare quello che voglio, ma in questo caso lo usiamo per Home Assistant. Questo ha una caratteristica tra l'altro molto interessante che ha la possibilità di togliere completamente l'accesso al blocco schermo. Siccome molti tablet non hanno questa funzione, però non vi parlerò della soluzione applicata a Lenovo, poi se voi avrete questo sarà ancora meglio, ma vi parlerò invece della soluzione che andremo a, che andrò a farvi vedere, è fatta su questo Huawei. Questo è un Huawei da 8 pollici e qualcosa, mi sembra, che è più piccolino, che va anche molto bene, ma costa anche di più, comunque intorno ai 300 euro. Comunque, faremo l'esperienza su questo Huawei. Comunque, in linea di principio, qualunque tablet va bene. Mi raccomando però che abbia una risoluzione compatibile poi con le telecamere che volete visualizzare, perché la mia esperienza è stata negativa in quel senso. Ma ora andiamo alle cose concrete. Allora, tre requisiti sono che il vostro Home Assistant sia bello funzionante e acceso, che abbiate installato l'App Companion sul vostro tablet Android, che abbiate disattivato lo stand-by del display, quindi che lui rimanga praticamente sempre acceso quando cliccate sul pulsantino, perché provvederemo via Home Assistant a abbassare la luminosità e aumentare la luminosità quando siete nella stand-up, quando ve ne andate, insomma. Altra cosa, ovviamente, che abbiate già il sensore. Questo dell'IKEA è un sensore, ma potrebbe andare benissimo anche uno della cara o qualunque altro sensore voi abbiate deciso di dedicare a questa funzione all'interno della stanza dove avete il tablet. Ma prima prestate attenzione. Seguendo questo tutorial, verranno inviati al tablet dei comandi che, presumibilmente, non sono mai stati inviati. Per questo motivo dovrete concedere l'autorizzazione mano a mano che verranno richiesti dal dispositivo. Non preoccupatevi, non sono distruttivi. Vi mostro alcuni esempi. Andiamo adesso a creare l'automazione. È ovvio che dovrete avere un minimo di dimestichetta, cioè sapere come si crea un'automazione o uno script perché andremo a usare l'uno e l'altro. Qui andiamo su impostazioni, automazione scenari. Ora non creiamo subito l'automazione, creiamo lo script. Quindi andiamo su script. Qua clicchiamo su aggiungi, crea nuovo script che chiameremo tablet-svegliati. Ok. Piccola nota. È mia abitudine utilizzare nelle automazioni come negli script proprio per non perdersi poi fra le decine e decine di nomi di script o automazioni diverse. Amo sempre mettere un nome che accomuni, che raggruppi il genere di automazione o script che vado a fare. Quindi questa che è legata al tablet io metto questo, come dire, prefisso, tablet-tattino e poi che cosa fa. Però qua ovviamente voi potete scegliere il nome che preferite. L'id dell'entità lo mette in automatico quindi non ci interessa andare a cambiarlo. Quindi questo script cosa deve fare? E qua diciamo aggiunge azione. Facciamo chiama servizio e qui nel servizio andiamo a scegliere notify. Notify perché noi vogliamo inviare una notifica al nostro tablet. Nel mio caso il tablet è questo che si chiama shtl9. Voi avrete ovviamente il vostro nome. Nel campo message andate a scrivere command underscore launch launch questo comando, questa notifica con come messaggio command launch app cosa fa? Lancia un'applicazione nel nostro tablet. Vi dico subito in teoria questo comando potremmo non darlo ma io preferisco dare questo comando che lancia ogni volta home assistant perché in qualche caso su un altro tablet che ho avuto aveva dei problemi perché intanto tornava nella pagina iniziale e non ne voleva sapere. Quindi dando questo comando forziamo il nostro tablet a caricare di nuovo l'applicazione home assistant. Non è che la carica doppia semplicemente avendolo già in memoria la riporta in primo piano. E nel campo data dobbiamo andare a scrivere il nome del package. Allora io adesso faccio un copy and call perché sennò diventiamo vecchi che già vecchi lo sono. Qua in pratica noi cosa abbiamo scritto? Lo scriviamo package name io.homeassistant.companion.android questo è il nome dell'applicativo che voi avete installato all'interno del tablet. Presumibilmente al 90% è uguale per tutti. Se aveste qualche problema nel funzionamento di questo specifico comando dovete riuscire a identificare come si chiama il pacchetto di home assistant all'interno del vostro tablet dell'app companion in pratica. Se voglio provare e ve lo consiglio di farlo per ogni riga che andate a inserire se voglio vedere se sta funzionando questa cosa qui vado sui tre puntini gli dico esegui e dovrebbe quindi caricarmi home assistant sul tablet ed eccolo lì infatti visto? Il tablet si è aperto su home assistant perfetto quindi questa istruzione è a posto. la seconda azione che andiamo a mettere invece quale sarà? Sarà quella di portare la luminosità a un livello desiderato io adesso userò il livello più alto che ho che mi sembra che sia 250 quindi faccio aggiunge azione sempre chiama un servizio allo stesso modo di prima mettiamo notify perché dobbiamo è sempre attraverso le notifiche che noi diamo questi comandi scegliamo sempre il nostro tablet nel message questa volta scriveremo command underscore screen underscore brightness underscore level e come data leggo qui e vado a scrivere command due punti spazio e metto il valore che per me è il massimo che è 250 perché praticamente la luminosità va da 0 meglio da 1 a 250 nel mio caso e quindi ho questo questo range io qua voglio che quando il tablet si sveglia deve darmi il massimo della luminosità voi potete scegliere anche un livello ovviamente più basso insomma quello che vi aggrada proviamo anche questo comando quindi tre puntini esegui e vediamo se qua cambia qualcosa eccolo l'avete visto infatti la mia camera ha chiuso il diaframma è infatti è stato tutto più scuro ma il tablet si è schiarito da qui potete anche giocare cioè se volete fare delle altre prove e volete metterlo che ne so a un valore basso ok allora per avere anche un feedback del fatto che lui stia facendo questa cosa io aggiungo anche un'altra azione che pronunci anche una parola al mio tablet quindi che ne so mi sono svegliato mi sveglio eccomi qua ed è una delle cose che abbiamo visto anche nelle notifiche in qualche video fa le notifiche dei cellulari quindi aggiungo questa azione diciamo di feedback anche audio anche qua è sempre un notify sul dispositivo interessato come message dobbiamo mettere in maiuscolo tts e come detta dobbiamo andare a incollare adesso qua copio e incollo per rapidità vediamo se è vero se funziona mi sveglio credo che l'abbiate sentito fammi riprovare vedere se lo vede di là mi sveglio sì ok e con questa diciamo che noi abbiamo completato la parte di script del tablet svegliati che cos'è che deve quindi richiamare questo script per dirgli tablet svegliati deve essere l'automazione quindi salviamo questo script e torniamo nella pagina indietro dove c'è automazioni e andiamo a creare l'automazione che richiamerà questo script come si farà si fa così si dice aggiungi attivazione che cosa sarà che attiverà il mio tablet a svegliarsi sarà proprio il dispositivo del rilevatore di movimento quindi da qui scegliamo dispositivo scegliamo il dispositivo di rilevazione che voi avete nel mio caso io ho il mio sensorino Ikea e come attivazione scelgo che il sensor motion ha iniziato a rilevare il movimento con un vostro sensore presumibilmente la descrizione sarà diversa ma il concetto è quello quando lui come dire va on rileva il movimento deve entrare attivare il trigger di questa automazione non ci interessa il tempo la durata diciamo del trigger ci interessa invece qua dove c'è azione andare a richiamare proprio il nostro script quello che abbiamo appena fatto precedentemente e quindi diciamo aggiungi azione chiama il servizio e qua scriviamo script oppure possono anche semplicemente scrivere sveglia perché noi abbiamo chiamato sveglia qualcosa sveglia sì io qua ne avevo già uno comunque il mio il secondo che abbiamo fatto è questo svegliati ok quindi devo mettere il nome dello script che abbiamo creato prima diamo un salva ovviamente ci chiede di dargli un nome questa automazione la chiameremo anche qua seguendo la logica diciamo di un prefisso che raggruppi tra loro le automazioni o gli script scriverò tablet spazio sveglia da sensore posso emettere la descrizione quando il sensore rileva la presenza chiama lo script di attivazione tablet svegliati e lo salviamo ok allora sistemato così così avete qua da una parte la mia automazione qua vedete il sensore che è andato a riposo nel frattempo vediamo un po' quando passo la mano eccolo qua mi sveglio vedete l'attivazione dell'automazione e ha richiamato lo script che poi lo script praticamente è quello che abbiamo fatto prima no? con tutte le sue azioncine varie ok molto bene e avete visto che il tablet in effetti è andato in massima luminosità sulla pagina home assistant adesso dobbiamo fare il contrario cioè fare in modo che dopo alcuni minuti diciamo presumibilmente quelli quando il sensore poi torna a riposo nel caso del sensore Ikea è dopo tre minuti ma mi sembra anche quello della cara lui faccia il contrario cioè gli dica vado a dormire e abbassi notevolmente la luminosità quindi andiamo a creare anche qua lo script e l'automazione che lo richiama quindi qua torniamo indietro andiamo a creare lo script quindi aggiungi script crea nuovo script il nuovo script si chiamerà tablet pratino dormi anche qua non stiamo a toccarli di identità perché se no poi facciamo del casino adesso lui mi ha dato qua un nome così col 2 perché in realtà ne esisteva già uno simile ma non dovete toccarlo la sequenza che dovrà fare quale sarà praticamente un po' come quella di prima quindi aggiunge azione chiama servizio notifica quindi notify e scelgo il tablet rimettiamo il comando diciamo di impostazione della luminosità questa volta non sto più a richiamare l'applicazione come abbiamo fatto nella parte diciamo di risveglio qua gli diciamo semplicemente che vogliamo impostare il livello di luminosità quindi command screen brightness level e come data come valore gli diciamo command due punti spazio uno il minimo possibile poi voi potete anche mettere soltanto a 20 10 5 non lo so fate un po' delle prove in sostanza se vedete che non va può darsi che sia un valore troppo basso non contemplato dal tablet proviamo con 10 ok e si è abbassato fammi un po' vedere perché mi ha fatto uno scherzo che non ho capito cosa ha fatto fammi un po' vedere se qui metto 2,5 2 se io qua metto 200 ok va se metto 1 ok vedete è andato praticamente a zero adesso voi non lo noterete tanto perché con la telecamera poi tende ad aprire il diaframma e lo fa per consentire di visualizzarlo ma di fatto il tablet praticamente è diventato quasi buio si vede appena appena che di notte tra l'altro è anche gradevole vedere questa leggerissima luce appena 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 perché non è possibile dargli un comando a zero vedete se io gli do un comando a zero non è che lui va da zero cioè meno di così non ci va tant'è che se date un comando sbagliato come in questo caso sentite arriva la notifica cioè arriva la notifica aspettate che rialza la luminosità arriva la notifica che ha ricevuto un comando screen brightness level e che non l'ha eseguita quindi se ricevete una notifica di questo genere vuol dire appunto che lui non è riuscito a eseguire il comando e ve la mette come notifica pura ecco non so se mi sono spiegato ok comunque diciamo che il comando minimo della luminosità è appunto uno quindi possiamo già salvare lo script possiamo ancora aggiungere l'ultima azione con chiamasservizio sempre notify giusto per avere il feedback che lui è andato a dormire quindi message tts e come data faccio un copia e incolla di un testo che ho già preparato dove gli facciamo dire torno a riposo torno a riposo e salviamo lo script ok a questo punto lo script è pronto ma devo creare l'automazione che lo richiami quindi torniamo indietro andiamo dentro le automazioni e così come abbiamo fatto il tablet sveglia da sensore adesso noi creiamo l'automazione del tablet di andare a dormire quindi aggiungi attivazione dispositivo che sarà sempre il nostro famigerato sensore che nel mio caso l'IKEA quando il dispositivo in questo caso ha smesso di rilevare il movimento quindi quando vai in stand by dovrà fare che cosa qua in azione gli diciamo di chiamare lo script che abbiamo appena creato aggiungi azione chiama servizio lo script dormi eccolo qua dormi dormi2 che è il mio doppio salva mi sono dimenticato di dargli un nome lo chiamiamo tablet dormi quando il sensore non rileva movimento 3 minuti diciamo perché il nostro sensore ha un tempo di accensione di 3 minuti manda a dormire il tablet salva ok quindi abbiamo tablet dormi e il tab vabbè l'abbè l'abbè chiamato dormi tablet dormi aspetta che lo chiamano un altro nome va rinominalo rinominalo dormi da sensore dato per capirci salva ok quindi abbiamo il dormi da sensore e sveglia da sensore queste due automazioni vi han detto richiamano rispettivamente gli script tablet dormi tablet svegliati ok adesso vedremo allo scadere dei 3 minuti che oh allora eccomi qua nel frattempo lui è andato a riposo quindi il tablet è a luminosità bassissima nel momento in cui io entro nella stanza mi sveglio mi sveglio mi sveglio mi sveglio se funziona bene ha funzionato quindi come vedete lui passa dallo stato di riposo allo sveglia e viceversa dopo i 3 minuti ripeto va a luminosità il più bassa possibile non è che si spenga perché per spegnersi ci sono anche dei comandi per fare in modo di impostare il tempo di stand by del tablet a x secondi o minuti e ci sono anche dei comandi che consentono di mettere lo screen in on cioè di riaccenderlo ma il problema è che non tutti i tablet hanno la possibilità di disattivare lo sblocco schermo ok cioè il mio tablet il Huawei questo qua se anche io io non posso disabilitare praticamente la funzione di blocco schermo perché se io lo spengo non riesco a riattivare lo schermo lo metto diciamo in stand by dal tastino ecco vedete quando lo rischiaccio quindi accendo lo schermo perché è possibile fargli accendere lo schermo però in ogni caso io devo per forza fare lo swipe per rientrare nella pagina principale mentre invece su questo tablet Lenovo ho la funzione di disabilitare completamente il blocco schermo e in questo caso il comando di home assistant mi consente anche di con altri comandi di accendere lo schermo o di impostargli uno stand by diverso che ovviamente non vi faccio vedere perché non è detto che poi voi utilizzate questo tipo di tablet però ecco perché vi faccio vedere la soluzione che dovrebbe funzionare comunque con ogni tipo di tablet poi è logico che le varianti sono veramente centinaia scusami se ti interrompo Roberto il video è piuttosto lungo amici la continuazione la trovate nel prossimo video a presto